Il Natale di Moreno Bordoni quest'anno è particolarmente gratificante, dopo 26 anni alla CNA, 10 da segretario provinciale, questa nuova investitura alla segreteria regionale delle Marche, nella quale succede a Otello Gregorini, oneri e onori in questo caso? Sì, oneri e onori, ma soprattutto una grande soddisfazione, perché ieri la direzione regionale della CNA delle Marche, all'unanimità, e non è cosa né scontata né dovuta, mi ha eletto segretario delle Marche. È un grandissimo attestato di stima da parte di tutti i territori provinciali e questo mi ha fatto davvero molto piacere. Ci sono stati interventi importanti dei presidenti di ogni provincia che hanno davvero detto parole stupende nei miei confronti. Mi hanno fatto sentire tutta la stima che hanno e tutta la responsabilità di questo ruolo, perché in un momento così importante per le aziende abbiamo bisogno di una leadership forte, di una CNA che sappia di stricarsi in questo momento davvero complicato, siamo in un limbo a livello economico e quindi c'è bisogno di un'associazione che sappia tracciare la rotta e tenere la barra dritta. Quindi mi aspetta un duro lavoro, un lavoro totalizzante che affronterò con la solita passione con cui ho lavorato per 26 anni come ricordato a Pesaro e da un lato ho una sottile malinconia per che 26 anni non si dimenticano in un attimo, ma un grandissimo entusiasmo per questa nostra nuova sfida che mi stimola davvero molto. C'erano però forse anni più facili in cui cominciare. E' vero, però c'è un detto che dice che quando il gioco si fa duro i duri iniziano a scendere in campo e a giocare. Da quando sono segretario a Pesaro ho vissuto i momenti più duri della vita dell'associazione nel nostro territorio. Abbiamo fatto uno straordinario lavoro mettendo in salvaguardia tante famiglie e un'associazione così importante come la nostra e quindi se hanno scelto me evidentemente sanno che sono uomo di trincea abituato a lottare anche nelle difficoltà e questo è un momento in cui le imprese hanno bisogno di qualcuno che lotti per loro. Quindi non mi spaventa questo. Il salto di qualità forse è una maggiore interazione tra l'associazione di categoria e la politica perché magari la guerra non può essere una cosa gestibile, le relazioni tra questi due mondi invece possono attenuare le conseguenze. Esattamente è così. Anche per il fatto che in questo momento la politica non può sottrarsi alla grande responsabilità che ha di scaricare a terra tutti i soldi che ci sono del PNRR. Soldi che probabilmente non avremo più in futuro. E quindi sarebbe un clamoroso delitto lasciare lì soldi che invece sono a disposizione e non poter aiutare soprattutto l'economia perché gli imprenditori hanno bisogno di essere messi nelle condizioni di fare bene il proprio lavoro e in questo momento quindi l'interazione con la politica diventa l'obiettivo numero uno. Allargarsi dalla provincia di Pesaro e Rubino alle intere marche, che criticità, che specificità diverse porta? Le marche sono un territorio variegato. Ci sono molte specificità che sono però da valorizzare. Non ritengo di centralizzare, nel senso che vanno messe a regime quelle caratteristiche importanti e uniche che ci sono in alcune zone delle marche, che devono diventare un valore aggiunto quando però si riesce a fare sistema. A livello invece di grandi temi come le infrastrutture, in questo momento noi non dobbiamo dimenticare che le marche sono una delle regioni più penalizzate a livello di infrastrutture. C'è il grande dibattito dell'arretramento dell'autostrada, piuttosto che la terza corsia nelle Marche del Sud, il grande dibattito che riguarda la linea ferroviaria. Sono grandi argomenti che vanno trattati con una sintesi regionale, non si può pensare al singolo comune. Quindi dipende dai temi, valorizziamo quello che di bello e di forte c'è nelle province, ma troviamo una sintesi regionale. Grazie.